Scommettiamo che indovino la tua più grande paura? Una riete non perde mai, non può, non deve. Se sei parte di questo segno, la tua più grande paura è fallire, che sia a scuola, sul lavoro o nei sentimenti. Il gemelli ha paura del senso di vuoto, che si fa sentire soprattutto quando intorno a lui c'è troppo silenzio, troppa monotonia, quando fa sempre le stesse cose e arriva ad annoiarsi, arriva a pensare che sta perdendo tempo, la sua più grande paura. Il grifondoro tra tutti i segni zodiacali ama essere al centro dell'attenzione, essere portavoce degli altri ma soprattutto di se stesso e la sua più grande paura è proprio quella di essere messo da parte, snobbato e dimenticato. Eterno e indeciso la bilancia non pende mai più da una parte che dall'altra perché prendere una decisione vuol dire anche andare incontro alla sua più grande paura, quella di sbagliare. Questa è la sua più grande paura, Questa è la sua più grande paura, Questa è la sua più grande paura, Ciao a tutti, oggi è giovedì 28 di gennaio, segno top di oggi è il sagittario che è bravissimo a bilanciare proprio queste due cose, ovvero la voglia di essere un leader indiscusso sia mai, il sagittario ha sempre ragione ricordatevelo, e invece la voglia di fare del bene con grande attenzione alle persone che lo circondano, quindi è un leader ma illuminato. segno flop invece è lo scorpione che oggi sarà intrattabile perché è iper sollecitato e quindi ipernevrotico. Attenzione perché lo scorpione con la luna storta morde e fa male. Ci vediamo domani con il top flop dell'oroscopo, ciao! 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 segnito da cagli a scuola c'è oddio ma hai depresato la mia matita scusami viste per caso dopo della ladra? no era solo per chiedere ah ho capito tu pensi che io abbia rubato la tua stupida matita perché sotto sei il coraggio oh santo graal ma è possibile che te la prendi per qualsiasi cosa oh amo eh sì vuoi sapere perché un'arancia non va a fare la spesa? perché mandarino mi potresti dare il quaderno non vorrei che mi rovinassi gli appunti che c'hai amo? questa è arrivata mi vuole interrogare io non so niente non ti preoccupare ci penso io scusio lei sa che io sono il sogno più pericoloso dello zodiaco vero? quindi mi ascolti molto bene se non vuole che le facci il chiullo non interroghi la mia bestie un bacio like per gli altri segni google dimmi il mio oroscopo di oggi sarà una giornata di merda grazie google poi spieghiamo alle coppie che litigano mentre camminano per strada dato che mi è capitato dieci minuti fa che se all'improvviso abbassano il tonno della voce noi perdiamo il filo del discorso litigate ad alta voce noi che gossip facciamo se di punti in bianco vi bloccate e non sentiamo più nulla eh? oggi ho i capelli gonfi e cresci ho i pari dilattati ho le unghie rovinate me ne pento? si lo rifarei? probabile ho sentito cose belle su di te sono serio strano sono uno stronzo se voglio spingere spicco andiamo odio le porte chi è il più pericoloso quando è arrabbiato? chi sembra antipatico ma in realtà è gentile chi si sente il più solo di tutti chi nasconde la sua tristezza? l'amore è mille colore quando rilemo giuro che scrivisse quando me vuoi bene mi faccio muore tu lo guardi tu portami lontana nessuno me l'ha fatto prima di te tu tieni me in mano e dico che cammini insieme a me e dico portami lontana e dico che oveste nemmagoste non tende chiudere i like you i don't give a fuck i tell a boyfriend come on let's link can't do what i do i can beat it up with no hands teach you like you're monarchy with a slide out touch band come on let's link can't do what i do i can beat it up you're my muse my worst distraction my rhythm and blues i can't stop singing it's ringing in my head for you my head's under water but i'm breathing fine you're crazy and i'm out of my mind cause all of me oggi vi mostro cosa succederebbe se i segni si perdessero in un bosco ragazzi ma dove siamo finiti? infatti si può sapere chi di voi ha la mappa? chi è che sta guidando qua? ok sì lo ammetto un pessimo senso di orientamento ma non è colpa mia avete seriamente dato la mappa a sagittario? davvero? ero convinto che fosse bravo non è colpa te la faccio pagare ma come cavolo ti viene in mente di darla a lui? oh mio dio raga mantenete la calma che tanto la strada la troviamo state c***o no ok oh mio mi sta venendo là ci siamo persi io volevo dei figli la grazia bilancia calmati la troviamo la strada non ti preoccupare la mia vita è del suo puttane dovrei dirglielo che in verità l'ho uscita di là no vediamo che fanno ciao grazie a tutti 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 Grazie a tutti